Premiato con il Red Dot Product Design Award, Yuga è un sistema di illuminazione tecnico decorativo che include moduli da un metro e possono essere collegati tra loro con un solo attacco elettrico, fino a 7 metri. Ogni modulo da 25 Watt sviluppa 3500 lumen ed è realizzato in LentiFlex, il nostro esclusivo materiale prismatico che permette di fluidificare la sorgente luminosa. Ogni modulo è realizzato a mano dalle nostre sarte della luce nell'atelier alle porte di Roma. La collezione include una lampada singola orizzontale e da oggi una nuova versione vertical, oltre che il sistema architectural che permette di collegare da due a sette moduli tramite questi cavetti di alimentazione. Come accessorio c'è questa barretta trasparente che permette di allineare il sistema architectural perfettamente. Yuga risponde alla normativa UNI EN 12464 per l'illuminazione degli uffici, 500 lux, U0 maggiore di 0,6 e UGR minore di 19. L'invito in realtà è a provare personalmente la qualità illuminotecnica di questo apparecchio non solo in ambienti professionali, ma anche negli spazi di lavoro casalinghi come la cucina, dove le ombre si azzerano lasciando una visuale perfetta sugli utensili e sugli alimenti. I moduli sono dotati di cavo coassiale, rendendo le linee pulite e l'installazione molto semplificata. Fiora all'occhiello della collezione Yugo è la nuovissima lampada da terra, 2 metri e 0,7 d'altezza. L'inclinazione è fissa e i moduli sono equilibrati quasi a ricordare le mani di Dio e Adamo nel giudizio universale nella Cappella Sistina. È studiata per accogliere e incorniciare una poltrona da lettura o un divano. Il tasto di accensione e dimerazione a sfioramento è in posizione ergonomica. È personalizzato con il logo SLAMP, inciso chimicamente. Il circuito a led integrato lampeggia per avvisare l'utente quando si raggiungono i punti massimo e minimo di luminosità. Allo spegnimento il sistema memorizza l'intensità luminosa e la ripropone poi alla successiva accensione. Quando non c'è inquinamento luminoso nello spazio i due moduli sembrano quasi galleggiare nell'aria, dando una magica sensazione di fluidità alla luce. La struttura interna è in acciaio e assicura una elevatissima stabilità per una lampada di oltre 2 metri. I due moduli vengono spediti separati e il cliente deve semplicemente avvitarli. Il trasformatore è a spina e il cavo è nero per evitare che si sporchi stando a terra. Su richiesta si possono fare edizioni customizzate in altre finiture.